Gianni Capra Roberto Furmano Alessandro Sciutto Ugo Rautofres Gino Cervi Anne Marti Giulia Contesi Grazie Luca Conti Grazie Luca Castagna Guido Basilisco Diero Nobile Fiammata Questo lato quello che si ha sempre giustificato Giustificato Elisa Calcamucci Assento giustificato Per ragione di lavoro Marco Pastoreti Alberto Marcanini Elena Borgadini Elena Borgadini Elena Borgadini Grazie 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 Grazie